Gli interventi svolti sulle condotte di acque bianche con carica batterica irregolare e l'attivazione del DK15, lato nord, fiume Pescara, stanno avendo come effetto il rientro dei valori nella norma. Sono infatti positivi i risultati dei prelievi supplettivi effettuati dall'Arta sabato scorso sulle acque e dei punti di campionamento di Fosso, Valle Lunga e Via Galilea, detto il sindaco Marco Alessandrini. I dati positivi sulla balneabilità delle acque ci danno ragione sulle azioni svolte per risanare il fiume e il mare della città. È di mercoledì scorso l'attivazione del DK15 sulla Golena Nord e entro giugno il sistema sarà attivo anche nella Golena Sud. La sinergia del lavoro posto in campo assicura il miglioramento, ha detto il vice sindaco Enzo Del Vecchio, ma evidenzia anche la necessità di svolgere tutti gli interventi che serviranno perché il fiume recuperi salute e le condizioni ambientali positive si ripercuotano anche sulla balneabilità del mare. Allo stato attuale, a concluso, possiamo dire che l'acqua è balneabile nella quasi totalità del litorale. Se anche i valori dei prossimi campionamenti di Fosso Vallelunga e Via Galilei saranno positivi, il Comune chiederà alla Regione di riaprire alla balneazione i relativi tratti di costa, restringendo gli attuali divieti al solo tratto di Via Balilla.